Anche quest'anno, fra gli ospiti di Olio Oliva, un posto d'onore spetta al vicino Piemonte in ossequio a un gemellaggio in essere fin dal 2013, fra la festa imperiese dell'olio nuovo e la rassegna piemontese Peccati di Gola che si svolge nel Monre Galese. La presenza dello stand piemontese è sostenuta da Eurocingei e l'organismo presieduto da Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di Commercio di Cuneo e storico sostenitore dell'unione fra i territori delle Alpi del Mare, che comprendono le province di Imperia, Cuneo e Nizza. A Olio Oliva dunque, anche quest'anno, sarà possibile conoscere e assaporare le tipicità del vicino Piemonte sulla scia di una storia comune di questi territori che affonda le sue radici nei secoli passati.